Abbiamo assistito a un bacio veramente focoso tra i due fidanzati dell'isola, Alessandra e Simone, perché sono riusciti a passare in deni alla prima nomination. I due fidanzati ormai, assieme da un anno, hanno deciso di partecipare all'isola, ma ultimamente si sentivano un po' distanti per le abitudini faticose dell'isola. Quindi gli altri ragazzi hanno fatto un regalo speciale, un posticino tutto loro e tranquillo vista mare, dove possono fare tante coccole. Che bella vita!